Questa sera torna l'appuntamento con il grande cinema su Noi TV. Per il ciclo I classici va in onda le 22 Sentieri Selvaggi, il western diretto da John Ford con John Wayne, Natalie Wood e Jeffrey Hunter. Il film, caratterizzato da un accurato studio dei personaggi e da un'ottima fotografia, porta sullo schermo alcuni dei capisaldi della mitologia americana, tra i panorami mozzafiato del deserto della Monument Valley alle montagne di Aspen e dei boschi di Edmond. Protagonista della vicenda è il soldato suddista Ethan, John Wayne, che tornato a casa dopo la guerra civile è costretto a ripartire alla ricerca della giovane nipote, rapita dagli indiani Comances. Assieme al fratellastro Martin, seguendo con fatica le piste lasciate dalla tribù Pelle Rossa, Ethan parte alla ricerca della ragazza, ma inizia un viaggio anche interiore che lo porterà a fare i conti con il proprio razzismo e cinismo, quando alla fine ritroverà Debbie, ormai diventata una donna indiana. La pellicola è considerata un cult della storia del cinema ed ha avuto una grande influenza sulle opere dei registi successivi, che vi hanno fatto spesso riferimenti e citazioni, nei propri lavori. Grazie. Grazie.